Musica Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi venerdì 14 ottobre si festeggia San Callisto. Iniziamo la nostra rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali dal centro, edizione dedicata a Pescara, appalti con tangenti, sette arresti costrette a pagare per i lavori della ricostruzione a bussi. In centropagina Movida e in via Battisti arrivano anche i vigilanti, gli esercenti pagano il servizio di sicurezza. Nelle cronache, naia di le società chiedono tariffe più basse, la riunione in regione, poi in Montesilvano i ladri svaliggiano la cucina del ristorante rubati carne e vino. Nello sport, Crescensi fuori tocca a Vitturini, Baebec ce la fa domani, ricordiamo Pescara-Samp. E poi elice a rischio 25 lavoratori, ristorazione scatta all'allarme sul futuro dell'azienda, la Dial. E a torno in parte avvelenato dal fungo gravissimo un ex muratore. Ed ora l'edizione dedicata alla provincia di Chieti, vediamo in apertura omicidio, tessi accusati di omertà, Chieti scoperti gli sms con la frase non dire che hai visto il delitto. In centropagina, ecco la lettera oscena scritta da D'Annunzio a Tosti, esposto a Chieti in manoscritto con le offese. E nelle cronache vediamo Ateneo scelto tra le polemiche il nuovo CDA. In Vasto fa mangiare rifiuti all'ex zia, inflitti tre anni per maltrattamenti. In Ortona, inagibili due scuole, trasferiti cento alunni. Poi tangenti appalti, sette arresti, bussi, costruttori dopo sisma e dirigenti comunali nei guai. Ed ora la prima pagina dedicata alla provincia di Teramo. Film a due euro, assalto al cinema, tutto esaurito allo smeraldo e mille persone devono restare fuori. In centropagina, Dio Valeri, il regista che diresse è un rifonda, era nato a Montorio, al Vomano. E poi tangenti nel taglio basso, in spalla, tornimpante, appunto il caso dell'ex muratore avvelenato dal fungo è gravissimo. Nelle cronache invece vediamo a Pineto la strada statale 16, rotonde al posto dei semafori. La protesta in aula, ieri pomeriggio, in consiglio, l'opposizione con i cartelli, andatevene. Ad Albadriatica, depuratore, il Tar dice no ai proprietari. L'opera può partire. Ed ora il centro, edizione dedicata alla provincia di L'Aquila. Terremoto e tangenti, sette arresti, coinvolto dirigente di Pratola, nel mirino e i lavori alla scuola di Bugnare. Poi in centropagina, incendio a Sant'Elia, villa in fiamme, gli inquilini fuggono appena in tempo. Finanziere, nel taglio basso si toglie la vita, aveva 47 anni, la tragedia nella scuola delle fiamme gialle. E poi nelle cronache, progetto case, alloggi al freddo, esplode la rabbia dei residenti a Vezzano. La stati accusa addio giunta di Pangrazio e in Sulmona. Mensa a scuola sconti per chi ha redditi bassi. Vediamo ora la prima pagina del messaggero Abruzzo, sisma, la cupola degli appalti, sette arresti in Val Pescara. Decapitato l'ufficio tecnico della ricostruzione numero 5, le accuse della procura di Pescara. C'era un piano Abruzzo per prendersi tutto. E i paesi coinvolti, a Bussi si teme la paralisi dei lavoratori, la scuola di Bugnara, cantiere simbolo. E poi l'esperimento, la superlaurea per geologi, architetti e ingegneri. L'Ateneo di Pescara impara le lezioni arrivate da Amatrice e L'Aquila. Rapina violenta Giulianova, botte alla pizzaiolo, lo hanno pedinato dopo la chiusura del locale, poi aggredito, vittima il titolare del borghetto. Il paradosso in breve è condannata per molestie, ma era morta. E poi le spine urbanistiche, Pescara Porto, sconto in arrivo. Vediamo ora l'edizione, la prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo. La città in apertura ha tentato bis alla stazione di servizio con le dara una settimana dopo l'atto intimidatorio. Incendiate le gomme dell'officina Total Erg. In centropagina, quanto accaduto ieri pomeriggio in consiglio comunale a Teramo, cartelli delle opposizioni contro l'amministrazione, l'aria che tira in comune appunto. E poi Giulianova, Castrum, promessa mantenuta, domani taglio del nastro al campo sportivo. In breve Roseto degli Abruzzi, incompatibilità, la Ciancaione ricorre contro il parere Anac. E candidatura PD in lizza scende a Martinsicuro, anche il big romano Antonini. E in Lega Pro vediamo in basso Jefferson out a Venezia, il Teramo tornerà al modulo 3-5-2. Ed ora vediamo le prime pagine dei quotidiani nazionali. In apertura oggi il premio Nobel a Dario Fo e a Bob Dylan dalla Repubblica. Quindi da una parte il giullare Dario Fo, l'ultima risata del maestro che abbracciava ogni arte. Addio al Nobel italiano del mistero buffo. E poi dall'altra parte il menestrello, la sorpresa del premio Nobel a un cantante, Bob Dylan. Un premio alla nostalgia dell'America migliore. In centropagina la fotonotizia, Dario Fo in alto e Bob Dylan in basso. E in breve vediamo i vari titoli dedicati appunto a Dario Fo. Lui è franc amore contro, la forza dell'albero e poi ricordo del figlio e della famiglia. Dall'altra parte Bob Dylan, i due artisti della parola se la voce è letteratura. Nel taglio basso poi vediamo, spunta il bonus mamma domani. E poi la crisi globale, il settembre nero del dragone, l'export cinese frena del 10%. Passiamo al Corriere della Sera. In apertura quindi sempre a Bob Dylan il Nobel per la letteratura, le critiche degli scrittori. Non ha senso, ma lui è un poeta e tra le polemiche appunto il premio a un irregolare e poi musica e libri qualcosa è cambiato. In centropagina Dario Fo il giullare, ho giocato con la vita, poi l'ultimo maggio a Franca, credente senza saperlo. E cambiando argomento, crisi migranti, proteste, accuse e centri pieni, Renzi, Alfano, Allaue, patti violati. Verso la manovra poi pensioni, conti per uscire prima e per quanto riguarda il referendum vediamo il ritorno degli ex grandi e piccoli. Nel taglio basso il palazzo d'oro delle dogane in periferia e il voto femminile lascia Trump per quanto riguarda le notizie internazionali. E poi il messaggero vediamo Nobel a Dylan, poeta con l'armonica, premio per la letteratura. Quindi nuove espressioni sul solco della tradizione americana. La manovra nuovo fisco dalla stretta sull'IVA a Equitalia, giro di vite anti-evasione, riscossione all'Agenzia delle Entrate Statali, concorsi mirati per 10.000. E poi l'addio a Fo, l'artista dello sberletto, il Nobel, aveva 90 anni, ricordiamo. E periferie Renzi sblocca i fondi anche per i progetti di Roma, le richieste dei sindacati e poi l'emergenza nel taglio basso. Vediamo migranti al collasso, i centri d'accoglienza accuse dalla Francia. Il tempo, il quotidiano indipendente, in apertura per l'Ecodoppler, ripassi tra un anno, questo il caso. E con gli esami medici impossibili negli ospedali del Lazio, in 48 casi per un test bisogna aspettare oltre 300 giorni. In centropagina la Roma è nata in Serie B, tifosi contro nel derby capitale, il documento del 97 del tempo scatena una bagarre sulla primogenitura calcistica. E poi promesse da referendum, Renzi rilancia 10.000 assunti e via Equitalia. L'addio a Fo, l'ex di Salò e poi quel Nobel a Bob Dylan parla Vittorio Sgarbi. Nel taglio basso un gorilla, panico a Londra per un gorilla che scappa dalla gabbia e va in giro per due ore. King Kong è fuggito. La stampa in apertura, vediamo il segretario Nato, soldati italiani al confine russo, faranno parte di quattro battaglioni schierati nei paesi baltici. Quindi Mosca non avrà un'altra in alta e poi ancora il Nobel a Dario Fo, il Nobel che commuove e Bob Dylan invece il Nobel che divide. 10.000 assunzioni per Polizia e Sanità, annuncio di Renzi, basta impiegati al Checco Zalone. E il retroscena, manovra tagli per 5 miliardi e deficit alla 2,2%. Infine la storia, la realtà parallela, viaggio sui social a 5 stelle. Avvenire in apertura e fatto, voce e protezione ai piccoli migranti, il Papa Ippocrita. Un cristiano che non accoglie nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato Papa Francesco, ricorda i tanti bambini costretti a patire. E in centropagina invece la contestazione e impegno, Dario Fo cala il sipario, letteratura, il Nobel al Dylan, poeta tra le note. Passiamo al fatto quotidiano, Dario Fo vota Fo, questa l'apertura del quotidiano. E poi nel taglio basso, Bob Dylan, il mondo cantato in anticipo, la stangata poi per quanto riguarda la manovra, ecco la manovra, tagliati i fondi al sistema sanitario. E poi la storia, le lusinghe, l'orrore sul web mi faceva sentire accettata, poi mi ha violentata. Passiamo al libero, legittima difesa, non indizio di reato, i risparmi del materasso. Gli italiani hanno più paura delle banche che non dei banditi, ecco perché accumulano contanti in casa o nelle cassette di sicurezza. Altro che criminali sono previdenti, ma è già partita la caccia ai 150 miliardi di patrimonio nascosto. I Nobel sbagliati, poi in centropagina, morto Dario Fo, il nonno di Salò, tutti i peccati di un buon attore. E non è un poeta che nota stonata invece premiare Dylan per la letteratura. Poi ancora vediamo tra i redazionali una risposta al fisco smudato, poi la banconota non è criminale. In spalla invece come servizio pubblico, l'anda oltre i limiti, eutanasia anche a chi non è malato. La sentenza assurda, poi giustizia proletaria, tolgono l'azienda alla padrona severa. Nel taglio basso siamo il paradiso degli ottantenni, più 30% in 10 anni. Ecco il nostro unico primato positivo in Europa. Il manifesto vediamo Maestro Buffo, così titola in apertura appunto il quotidiano. Dario Fo ci ha lasciato, con lui se ne va un pezzo della nostra storia. È stato un compagno di lotte e di risate dalle periferie. Il suo teatro contro il potere ha conquistato il mondo. Ciao Dario. E poi vediamo in spalla i record di Dario, lo sghignazzo di un giullare da Nobel. E poi a Piazza del Grillo, al telefono, la bomba del 12 dicembre. Ed ancora l'attore prodigioso, un teatrante assoluto contro il potere. Vediamo all'interno invece in breve i titoli sul referendum. Renzi punta a sud, ma prega per l'assenzione. E poi a Roma le mani sul cortocircuito appello a raggi. In Thailandia invece muore il re più longevo. Regna l'incertezza. Ed ora il mattino in apertura. Fo e Dylan, l'era dei Nobel, cantastorie. Dario Fo, l'addio del grande giullare, il medico, ha cantato fino all'ultimo. E Bob Dylan sul podio della letteratura, ma la sua vittoria scatena polemiche, come appunto abbiamo visto. Il personaggio, vediamo, un po' sovversivo, un po' conformista, artista a due facce. Il musicista, De Simone, con lui il mio break, mai andato in scena. E poi le reazioni. De Gregori esulta mai troppo tardi. Baricco invece sbagliato, per quanto riguarda il Nobel, appunto a Dylan. E poi il critico, Portelli, creatore di linguaggi, nessuno come lui. Qui nel taglio basso, vediamo, clan politica, il PM, 16 anni a Cosentino, la requisitoria al processo Eco 4, il patto mafioso provato dai pentiti. E la proposta, vediamo, landa shock, eutanasia senza malattia, suicidio assistito anche per chi considera la sua vita finita. La Gazzetta del Mezzogiorno invece apre con Renzi, piano di assunzioni, l'annuncio concorsi per 10.000 statali tra militari e infermieri, più di 2 miliardi per aree metropolitane e periferie urbane. E l'inchiesta, viaggi, vino e cene, a spese della CUPI, le accuse a Monteforte, al DG Bianco, sigilli a 160.000 euro dell'ex numero 1. E poi in centropagina, letteratura, addio a Dario Fo, premiato Bob Dylan, il giullare e il menestrello, due Nobel uniti dal destino. E per quanto riguarda i titoli invece dei redazionali, da ribelle a maestro, e la lingua, canzone invece per Bob Dylan. In USA, altre quattro donne contro Trump, ma lui smentisce, è tutto falso. E da ancora, per quanto riguarda i redazionali all'interno, vediamo, ma ora Bari decida cosa farà da grande. Nel taglio basso, legge regionale, piccoli comuni di Puglia, il futuro nelle fusioni a Torino, salone del libro, il direttore e il barese, e poi l'analisi, il mondo globale, senza fede né politica. Passiamo alla secolo XIX, in apertura, da una parte Renzi, Polizia e Sanità, 10.000 assunzioni. Il premio era detto, torneremo a fare concorsi, Toti con i governatori della Lega lancia la controriforma federale. E poi il premio per la letteratura, appunto a Bob Dylan, nel giorno della morte di Dario Fo, menestrello da Nobel per quanto riguarda Bob Dylan, e poi invece il giullare degli ultimi per Dario Fo. E maltempo, scuole chiuse, Liguria con il fiato sospeso, oggi allerta rossa da capo Noli a Sarzana, allarme fino alle 24, a Genova, stop a esami e visite. Passiamo all'unità, pubblico impiego, ripartono i concorsi, Renzi, sblocco del turnover per 10.000 persone, tra forze dell'ordine, medici e infermieri, pensioni, l'uscita anticipata costerà meno del 5%, oggi l'incontro decisivo con i sindacati. In centropagina, letteratura, il premio Nobel a Bob Dylan e poi il PD, via alla mobilitazione per la manifestazione del 29. Torna il cavaliere, esplode Forza Italia e poi in USA, le donne mettono nei guai Trump. Per quanto riguarda le indiscrezioni emerse in questi giorni sul candidato. Ed ancora la verità, in apertura, rimozioni di Stato, indagava su Verdini, carabiniere silurato per quasi un decennio, ha condotto alcune tra le principali inchieste sui potenti, finendo per pestare i piedi alla stampella del Premier. Ora il colonnello Strada non potrà più farlo, trasferito in una scuola. In centropagina, morto fo gigante nell'arte, ma non nella vita. E poi, ancora, assicuriamo persino le sbronze dei deputati. Ogni anno, 350.000 euro per garantire i parlamentari da qualsiasi rischio, e il mondo ci ride dietro. Vediamo nel taglio basso ancora, due pesi e due misure, quattro stupri su dieci sono compiuti da immigrati, ma le loro violenze passano sempre sotto silenzio. Ed ora ci fermiamo con la nostra rassegna stampa per lo spazio dedicato alle previsioni del tempo, e quindi con Luca Mennella di InMeteo.net. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, andiamo all'interno dei quotidiani regionali, dal centro. La prima pagina dedicata all'Abruzzo apre con la guida dell'Espresso, i grandi vini d'Abruzzo tra i magnifici 300 d'Italia. Molte novità nell'edizione 2017 della guida in vendita da oggi. In evidenza il Trebbiano Masciarelli e il ritorno di Valentini dopo sei anni al Montepulciano. All'interno ancora pagina dedicata a Pescara, via Battisti, i vigilantes per sorvegliare la movida. Gli esercenti ripristinano da stanotte il servizio degli steward, istituito anche un numero di emergenza per i residenti. E poi la cerimonia al cipo di strada a Colle Orlando, la città commemora i tre pescaresi fucilati dai tedeschi. Frode fiscale, arrestato un altro pescarese, Massimiliano Maravalle, ai domiciliari e coinvolto nell'inchiesta di Vicenza insieme a Defanis. Sul Pizio ancora, vediamo, la squadra non va, va cambiato l'allenatore. L'assessore rompe il silenzio dopo la sostituzione in giunta e attacca Alessandrini. Ho salvato il comune dalla bancarotta e questo è stato il suo ringraziamento. Quindi Sul Pizio fa il bilancio della sua esperienza di assessore. L'ex assessore comunale lo ascoltiamo in questa intervista di Paolo Renzetti. Si è parlato di primo, secondo tempo, secondo tempo per questa amministrazione, quindi era una battuta buttata lì, che di solito quando una squadra arranca, non va bene, si cerca per appunto di cambiare l'allenatore. Non ho mai visto un giocatore il cui allenatore dice gioca bene, che viene cacciato. Però sono anche, la politica è questa purtroppo, però non ci dobbiamo arrendere. Sicuramente cercare anche di migliorare questa politica, facendo parlare anche di noi i nostri numeri, i numeri sul bilancio che ho dato in conferenza stampa, a cui tenevo tanto, ma non per polemizzare con l'amministrazione, che la polemica è veramente una cosa che è lontana da me. E non voglio far passare un messaggio di polemica, voglio soltanto far capire fondamentalmente che il buon lavoro che è stato fatto in questi mesi e spero tanto che riusciamo a far capire ai cittadini che lasciare il Comune di Pescara oggi con 10.853.000 euro in cassa, quando ne avevo trovato con meno di 800.000 euro circa, è un dato importante. Questi sono aver ridotto l'indebitamento, aver ridotto le tariffe dell'Atari per sia per l'attività commerciale, su una media del 7-8% che per i cittadini. Questi sono gli elementi che mi danno soddisfazione a me. Lei questa mattina ha detto in conferenza stampa, alla luce di questi risultati, non riesco ancora a darmi una spiegazione del perché è accaduto tutto questo. Io non lo so il motivo, francamente, però ti dico che è una cosa che non mi interessa nemmeno più, perché avere la vicinanza dei cittadini che hanno capito il senso, avere la mia e i numeri che mi dicono hai fatto benino, diciamo così, che hai raggiunto questi risultati in tutti questi punti, sulle case popolari, hai assegnato tantissime case, quindi hai tolto tante persone dal momento di difficoltà, hai creato delle abitazioni che noi inaugureremo fra un anno per il ceto medio, che è quello più in difficoltà. Questi sono i risultati che a me vanno dalla mia, poi la vita va avanti, logicamente. E poi le notizie in breve, vediamo stasera alle 21, referendum Calderoli al Museo delle Genti, da oggi a domenica, mercatino delle specialità francesi sul corso, e oggi al Museo delle Genti invece il convegno dei commercialisti con la Fidas, e per quanto riguarda la Movida, serata e spettacolo all'Off, Giambo e Nettuno. Naia di vertice in regione, le società, tariffe più basse, braccio di ferro tra le associazioni sportive, l'ente gestore dell'impianto, sotto accusa i criteri di gestione anche per l'assegnazione degli spazi in acqua. Ex scuola in via Saffi, il comune pulisce. Villa Michelangelo invece oggi convegno sul ruolo degli infermieri. Andiamo avanti, Da Vinci, 1500 in corteo per ottenere la nuova sede, lunedì prossimo manifestazione di studenti e genitori davanti alla provincia, all'obiettivo il trasferimento da liceo classico all'edificio di piazza dei grue. I ragazzi parlano di terremoto oggi all'università. Domani convegno all'Aurum, cancro al seno, 42 donne salvate dalla prevenzione, via alla campagna della Lega Antitumori. È possibile prenotare visite gratuite. Lombardo, guarigioni in aumento, ma la malattia colpisce sempre più giovani. Vediamo nel grafico la campagna della Lilta, Pescara, 600 donne sottoposte nel 2015 a controllo del seno, 40 casi di noduli sospetti, due tumori maligni scoperti, 300 i pazienti sottoposti a visita dei nei, e i sette casi di melanoma scoperti. In piazza Salotto, in 200, i controlli gratuiti della vista. Nel taglio basso vediamo tutti gli uomini dalla chiesa raccontati nel libro di Paterniti, incontro con i ragazzi dell'alberghiero. E poi in breve il primario Presutti, premiato domenica in provincia. Ancora ex hotel Vega, sporcizia e degrado sul litorale nord, a Francavilla. Ecco ciò che resta del complesso alberghiero. A due passi dal mare, un pugno allo stomaco per passanti e turisti che transitano sulla pista ciclabile. E queste le foto, appunto, le foto notizia. Vediamo nel taglio basso, invece, fermate gli inquinatori del foro, allarme contro gli incivili che disseminano di rifiuti e veleni gli argini del fiume. A San Giovanni Teatino, Marinucci, al Movimento 5 Stelle, Sacrosanto, multare chi passa col rosso. Andiamo ancora avanti, vediamo la prima pagina dedicata a Montesilvano. Colpo vicino alla riviera, furto notturno al ristorante rubati vini e carne pregiata. Malviventi portano via tagliata di angus, prosciutti e liquori. Oltre a tv e tablet, nel mirino il locale da Emilia, la titolare per noi è un colpo durissimo. E poi salvata dai volontari del Dog Village, Chica a casa dopo 20 giorni. In Montesilvano sempre, palazzina incompiuta, i lavori ripartono a fine ottobre. Arbore canta per i terremotati, il 29 dicembre grande concerto al Paladin Martin con l'orchestra italiana. E poi Pianeta Terra fa tappa a Montesilvano, domenica escursione geologica con l'associazione Gaia Trascanno e i luoghi in Abruzzo. Ristorazione 25 in mobilità, si acquisisce la crisi nell'azienda di Elice che occupa 51 addetti, l'SOS dei sindacati dopo l'acquisizione della MAR di Rimini. E poi Montesilvano, domenica raduno regionale di Jack Russell, al Teatro del Mare a Spoltore. Invece martedì nuove lezioni tra arte, storia, concerti e spettacoli. L'iniziativa contro le calamità, invece da domani io non rischio, al centro Arca di Spoltore. Pianella, terreno di gioco inguardabile al Verrotti, altri due dirigenti di società sportive contestano gestione e manutenzione dei campi di calcio. In breve, sempre a Pianella, nuovo collettore fognario, lavori per 43 mila euro all'impresa di Zio. E caccia al basista locale, il sindaco, nessun sospetto, non ho nemici a Civitacuana dopo la rapina e il furto a casa del primo cittadino e del maresciallo del paese. I carabinieri non escludono che si tratti solo di una coincidenza, decisive telecamere e impronte. Futuro della Brioni, si parla di orari di lavoro, oggi sindacati in regione su flessibilità e obiettivi dell'azienda dopo l'uscita dello Silista. O sì, a penne, fa freddo, via libera ai termosifoni e ancora nel taglio basso, via al controllo dei voti, a rischio tre schede, le elezioni contestate a tocco da Casauria. Pagina dedicata a Chieti, invece, l'omicidio di Chieti Scalo. Non dire che hai visto il delitto, gli sms inchiodano 15 testimoni, decine di messaggi omertosi nei cellulari dei ragazzi presenti alle 4 di domenica in via Pescara. Uno scrive se parli sei un infame, la polizia li ha già acquisiti, si rischia il favoreggiamento. E poi, tra i dettagli, la bottiglia usata da Cipressi per colpire Di Marco non è stata rotta sul tavolino ma sul muro. Lo scopre la scientifica, smentito un super test. Questo è l'interrogativo e poi il kebab già riapre, mentre i ragazzi del Circolo Treassi chiedono al PM il dissequestro del locale di via Colle dell'Arta. A Teneo, nel taglio basso, a Chieti nuovo CDA con polemiche, entrano Marramiero e Civitarese. Se no, a Daddona e Ercole, il Senato si sente commissariato vasto, fa mangiare rifiuti all'ex zia, condannato a 3 anni per maltrattamenti. L'Aquila, dramma, torna in parte, avvenenato dai funghi, è gravissimo. Un 61enne mangia la micidiale amanita falloide e si cerca di salvarlo nel centro trapianti del Gemelli. A Roma, i precedenti, nel 98, tragedia a popoli, pochi i controlli. E il finanziere si toglie la vita in caserma. Tragedia ieri pomeriggio nella scuola sotto ufficiali delle Fiamme Gialle, l'uomo aveva 47 anni. La donna morta per l'esplosione della bombola, altre indagini, slitta il rientro della Salma. Ad Avezzano, la stati lascia, mi hanno emarginata, velenoso addio dell'assessore alla viabilità, alla giunta targata di Pangrazio. Teramo, in apertura, voglia di cinema, film a 2 euro, assalto allo smeraldo, fa centro in città. L'iniziativa del governo, appunto, per la visione dei film, il mercoledì a 2 euro. Calca mai vista nella multisala, mercoledì, biglietti esauriti, oltre 2 mila spettatori e almeno in mille restano fuori. A Colledara tentano di bruciare per la seconda volta la pompa di benzina. Alla Total Air di Colledara è stato appiccato il fuoco ad alcuni copertoni, le fiamme si sono spente da sole. Corropoli, maltrattata e tenta di violentare la ex convivente, ha processo. A Basciano è scomparso il partigiano Ersoni, storico esponente del PC e collezionista d'arte. Aveva 93 anni. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città. Vediamo le notizie all'interno, riportate appunto dalla città. Abbiamo visto la prima pagina, mentre la pagina dedicata alla regione apre con appalti e tangenti, altri 7 arresti. A Pescara, imprenditori, funzionari e liberi professionisti si spartivano la ricostruzione tra Abruzzo e Umbria. 4 abruzzesi e 3 umbri sono accusati di associazione a delinquere, corruzione, concussione, turbativa d'asta, falso in atto pubblico, induzione in debita, a dare o promettere. E poi cronaca, ruba un'auto e poi non si ferma all'alto della polizia pugliese, finisce in manette. La celebrazione a Capestrano, il giubileo dei cappellani e dei militari abruzzesi. Ieri mattina la presentazione all'Aquila, alla presenza dei rappresentanti di tutti i corpi militari abruzzesi. Ed ancora, vediamo a Teramo il Consiglio Comunale di ieri. Adesso basta, liberate Teramo, andateve. Nelle opposizioni protestano contro l'amministrazione Brucchi, il sindaco accusa il colpo e si sfoga. Su Facebook la replica, per la prima volta in sette anni ho provato disagio, non dico di essere il migliore, ma so di essere un buon sindaco. Non mollo, ha detto il primo cittadino. Stati generali, affissioni abusive. Berardini segnala le locandine affisse all'ipogeo. Chiarini si scusa in aula, mentre lunedì è previsto il tour abruzzese di Luca Lotti. Vediamo ancora, pomante, troppe question, nessuna risposta. Il consigliere arancione diserta il consiglio, ma chiede conto della serie di interrogazioni a Brucchi. E poi la sinistra italiana, Dodo PD, a Teramo, il laboratorio del partito della Nazione. Ancora le BCC abruzzesi verso il gruppo unico a pescare all'incontro tra il Crea e Fedam sull'evoluzione del credito cooperativo. E il lutto si è spento Massimone della piscina Michelangelo. Corso lunedì si riparte, sindaco ottimista sui tempi, oggi la decisione delle sovrintendenze. Ed ancora l'iniziativa di MIVACT allo smeraldo, resta dall'altri tempi, scusate, per il cinema a 2 euro. Poi volontariato, l'ASL dona 3 ambulanze ad altrettante associazioni. A Villa Mosca è il top delle scuole materne, invece alla Mauro League svelato il lavoro del team di esperti di pedagogia di Reggio Children. Ed ancora il congresso della SIAP, la sicurezza passa dal confronto sui problemi. Un poliziotto teramano, Marco Iacobelli, scelto come rappresentante nella direzione nazionale del sindacato italiano appartenenti alla polizia. Ancora vediamo provincia, un altro attentato all'area di servizio. Abbiamo visto in apertura dopo l'atto intimidatorio di due settimane fa, dati alle fiamme, gli pneumatici del distributore Totalerg di Colledara la denuncia. Per la seconda volta in pochi giorni, il proprietario ha sporto denuncia appunto contro ignoti. Ed ancora Antonini pronto a tornare in campo, l'ex assessore comunale di Martinsicuro potrebbe candidarsi alle primarie democratiche. Ponte a sinistra, una sua candidatura potrebbe convincere gli scettici che non vedono di buon occhio l'alleanza con il Partito Democratico. Sempre a Martinsicuro, polizia, nuovo blitz tra le prostitute della bonifica. E il depuratore di Alba, espropi necessari nell'ordinanza del TAR, i motivi del rigetto della sospensiva dei proprietari dei terreni. Cronaca in auto con papà e con due etti di marijuana, sempre ad Alba Adriatica, invece a Corropoli, picchiava la moglie con il mattarello albanese a processo per maltrattamenti e violenza. E a Giulianova vediamo il castrum, al castrum il sindaco mantiene la parola, domani l'inaugurazione del nuovo campo costato un milione di euro. Il progetto è stato presentato per la prima volta in un'assemblea a novembre del 2012. Sempre a Giulianova, villetta in fiamme per colpa di una stufa a legna e poi il caso, i commercianti di via Sauro si sentono esclusi dall'amministrazione. I sindacati, il comune non liquida i progetti obiettivo, CGL e CISL chiedono il pagamento immediato dei compensi per i dipendenti comunali. Andiamo ancora avanti, la Ciancaione ricorre contro Cantone. La consigliera e dirigente regionale presenterà un ricorso al TAR sul parere dell'incompatibilità dell'ANAC. Secondo quanto stabilito dall'ANAC, la Ciancaione ha tempo fino a mercoledì prossimo per decidere se restare consigliere. Il precedente, un dirigente dell'ASL, ha vinto la stessa battaglia davanti al Consiglio di Stato. E sempre a Roseto, le modifiche del piano asfalti sono state ampiamente approfondite. Il PD risponde alle accuse dei sottanelliani sull'ultimo Consiglio Comunale, ma Recchiuti li corregge su un emendamento. E poi, religione, domenica migliaia di Tessimoni di Geova a Roseto per i daduno. L'appuntamento nella sala delle assemblee sarà caratterizzato dal tradizionale battesimo dei nuovi credenti. Ed ora vediamo l'ultima pagina. Pineto, 3 milioni per le rotatorie. ANAS metterà in sicurezza la statale adriatica da CERNE fino al centro. I lavori serviranno anche per favorire il deflusso delle acque in una zona soggetta ad allagamenti. E sempre a Roseto, di Girolamo sta rinunciando a 10 milioni di investimenti. Nel taglio basso, a Silvi, fine settimana in piazza per la protezione civile. Anche i volontari di Silvi partecipano alla campagna nazionale. Io non rischio. Ed ora passiamo al messaggero. Vediamo, abbiamo visto la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. Vediamo le notizie all'interno del quotidiano. Entriamo quindi all'interno, nell'edizione dedicata all'Abruzzo. Vediamo la prima pagina, l'abbiamo vista come detto. Entriamo quindi all'interno. Vediamo la prima pagina dedicata a Pescara, che apre con Pescara Porto, via libera a costo zero. Il consulente ha escluso competenze del Consiglio Comunale e nulla è dovuto dalla società per il cambio di destinazione d'uso. L'opposizione è pronta allo scontro in aula. Ci opporremo a costo di andare in procura, dice Antonelli, capogruppo di Forza Italia. Il consigliere comunale di Pescara, Guerino Testa, lancia l'allarme sul porto che senza dragaggio, piano regolatore portuale rischia lo stop. Vediamo il contributo video. Consigliere Testa, il porto di Pescara rischia di morire, avete lanciato questo allarme, chiedete di nuovo lavori di dragaggio e ovviamente anche l'approvazione del piano regolatore portuale. Sul piano regolatore portuale il vice sindaco sta dando rassicurazioni dal mese di febbraio 2015, quindi è passato più di un anno e mezzo e ancora non si vede la luce. Quindi primo fatto molto grave, dove Comune e Regione stanno dimostrando di svolgere attività altamente mediocre. La seconda è il dragaggio, il dragaggio minimo che doveva iniziare già dal mese di luglio, che è stato posticipato mese per mese, ancora non inizia. Sappiamo che non è la panacea di tutti i mali, ma ridà quella minima funzionalità. Ma io ritengo che il Comune e la Regione, al di là degli slogan e al di là degli incontri che sono solo di, non di sostanza ma di forma a Roma con il Ministro delle Infrastrutture, devono dire chiaramente qual è il futuro del porto di Pescara, quali lavori verranno fatti e la tempistica dei lavori. Perché è giusto che la marineria e gli operatori commerciali possono in qualche maniera programmare la loro attività, altrimenti dovranno scegliere altri porti, il porto di Ortona o addirittura porti anche fuori dal perimetro regionale. Operatori commerciali preoccupati anche perché alcune petroliere già non riescono più ad entrare in porto? Ma quello che più dà fastidio è che loro non riescono assolutamente a programmare perché non sanno se il dragaggio verrà effettuato o meno. Quindi loro dicono se devo aspettare ancora 15 giorni, un mese, un conto. Se devo aspettare 2, 3, 4 mesi, il discorso cambia. E la mancanza di chiarezza, la mancanza di dinamicità che questa amministrazione comunale e l'amministrazione regionale, ripeto, al di là degli slogan non sta facendo assolutamente nulla nei confronti del porto di Pescara. Ricordiamo infrastruttura fondamentale per il nostro territorio. A Pescara dopo il rimpasto, come abbiamo visto, l'addio di Sulpizio, meritavo un premio, mi hanno cacciato. L'ex assessore ha tracciato un bilancio della sua attività, la passione ressa, la politica si fa dentro e fuori del palazzo, ha detto. L'incontro, il generale dalla chiesa, raccontato dagli uomini dell'antiterrorismo. Pagina dedicata all'Aquila, progetto case, alloggi al freddo, scatta la rivolta dei residenti. Nonostante l'ordinanza del sindaco, termosifoni spenti in molte piastre, guerrato, subissata di telefonate, il problema è dovuto ai contatori. E poi in centropagina, Cava di Cagnano, 17 posti a rischio, tavolo di trattative il 18 ottobre. La replica, avvocato derubato si difende, la titolare di compro oro e la caserma scuola, coppito, finanziere si uccide con la pistola d'ordinanza. Dario Foa è il recital incompiuto sul sisma del 2009, cominciò a preparare le scenografie ed era alla ricerca di notizie sui terremoti precedenti, l'appello del figlio Jacopo. Il cartellone sinfonica, una stagione di 21 eventi, concerto inaugurale il 22 ottobre. E a Colle Longo d'Alfonso rilancia amplero ed è polemica, il governatore rilancia l'antica idea di convogliare le acque per l'irrigazione, ma non tutti sono d'accordo, il prelievo sul fiume Giovenco potrebbe alimentare lo scontento dei centri della Marsica dell'Est. E lotta al lavoro nero, 40 ispezionati in 4 mesi, ad Avezzano ecco la lista completa degli aspiranti sindaci, poi a Sulmona sorpresi a rubare cucina industriale, due arresti a sorprendere i ladri con le mani nel sacco, è stata la polizia insospettita dalle luci emanate dalle torce elettriche. E a Chieti invece Università ha scelto il nuovo CDA, nominati prof e imprenditori, ieri seduta decisiva del Senato accademico, confermati i docenti di Battista e Palumbo, di Ilio invece punta anche su Civitarese, assessore a Pescara, Tommasi e il dipendente Fimiani. Il delitto, omicidio di via Pescara, nuovo sopra il luogo, forse la bottiglia è stata infranta sul muro e non sul tavolino, rilievi della polizia nel kebab. E poi la nomina, testa nuovo procuratore a novembre l'ok dal CSM, protezione civile, terremoto io non rischio, l'iniziativa in piazza Vico. E le storie, corso, rapina sotto i portici, bloccato da un poliziotto, i carabinieri salvano dal suicidio una donna decisivo, il messaggio su WhatsApp inviato al medico. Abbasto, defunta condannata per molestie, la donna era morta ed estranea i fatti, ma per i giudici è risultata colpevole. A fare le telefonate era stato un uomo, ma sono finite nei guai due signore, incredulo l'avvocato dopo la sentenza. Lanciano, nuovi depuratori e lavori sugli impianti, la Sasi rispetta gli ordini della procura, il neopresidente basterebbe, ha consegnato il cronoprogramma che regolarizza gli scarichi. Ortona, chiuse due scuole a rischio crollo, a Lanciano, carabba, certame letterario per scoprire i giovani talenti. E poi vediamo Abbasto, tre anni a un marito e padre, violento in breve a San Salvo, progetti premiati al Pinkton, Abbasto, recuperata, autorubata, bar svaliggiato nella notte. E tra gli eventi invece, tra gli appuntamenti, grandi chef a Villa Santa Maria per la festa nazionale dei cuochi, previsti, 500 chef, appunto, di fama nazionale. Teramo, dimettetevi, caos e proteste in consiglio. L'opposizione chiede un passo indietro del sindaco, esponendo uno striscione per ogni competente della, per ogni componente, scusate, della maggioranza. Dodo chiede una risposta scritta a Brucchi, sul caso Ricatti, lite tra Gatti e D'Ignazio, referendum pomo della discordia. E le spine, cultura, di sabatino lancio all'allarme, i finanziamenti sono troppo scarsi, ha detto il presidente della provincia, parla durante la presentazione dell'iniziativa Vola Alto. L'operazione padre e figlio finiscono nei guai, scoperti in auto con la droga, e poi il caso nel taglio basso, ospedale Mazzini, parcheggio nel caos, dopo il raid di Striscia, la notizia, la sosta selvaggia, non si ferma, auto lasciate dappertutto. E vediamo sulla costa Giulianova, botte al titolare, rapinata pizzeria, sfortunato protagonista Fernando Di Filippo del Borghetto, effettuati i posti di blocco, ma dei malviventi nessuna traccia, mentre stava entrando in auto, è stato circondato da due persone, che lo hanno afferrato e poi colpito, facendolo cadere a terra. Roseto, piano asfalti, il PD, avevamo altre priorità, e poi ancora Giulianova, commercio contro l'amministrazione. Abruzzo Sport, vediamo in apertura il titolo, ripeto, un cuore a metà, l'ex DS, doppio ex della sfida, la Samp è la squadra della mia gioventù, ma poi la mia vita è stata tutta in biancazzurro, ha detto, sarà anche una sfida tra grandi allenatori, Gianpaolo e Oddo meritano di arrivare in una squadra di prima fascia. E poi notiziario, Crescenzi si ferma, domani tocca Vitturini, questo l'interrogativo, la Team Cup, pescare a Bergamo il 30 novembre. in Lega Pro, Teramo a Venezia, senza Jefferson, pronto croce, balottaggio in difesa, tra Scipioni e Sales, tra i Veneti, si prepara l'ex Moreo. E sul Teramo Calcio, ci fermiamo per ascoltare, Nofri, che ha parlato ieri. Sales è disponibile, perché ormai il ragazzo credo che abbia acquisito anche una condizione fisica importante, perché sono più di 20 giorni che si allena con noi, dunque è a disposizione, quindi può scendere tranquillamente in campo. Gli altri, adesso dobbiamo valutare quello che anche dicono i dottori, perché Carraro, formalmente sta bene, però l'infortunio suo è stato, sono trascendito da parecchio, ancora c'è qualche risentimento, ma a livello medico diciamo che è a posto. Jefferson oggi veniva valutato, perché ieri nel corso della partita ha sentito un piccolo fastidio al bicipito e femoral, dunque dobbiamo monitorarlo insieme ai dottori. Credo che l'E3 sia quello più in dubbio per la partita di sabato. La svolta per fare una vittoria fuori casa, è ovvio che nella mia gestione fuori casa non siamo riusciti mai a vincere e sicuramente andiamo a giocare su un campo difficile, quello del Venezia, additato da tutti come squadra insieme al Parma più competitiva per ottenere la vittoria del campionato. Dunque ci aspetta una gara difficilissima, noi dobbiamo cercare di interpretarla bene e di riportare punti, perché alla fine la nostra classifica comunque sia ancora oggi è deficitaria e dobbiamo dare seguito ai quattro risultati consecutivi. Adorazio è un giocatore che può secondo me interpretare sia in una difesa a tre e il terzo a sinistra, perché è un giocatore che ha una tecnica individuale eccelsa, è un giocatore secondo me che ha grandi qualità di corsa, di tecnica soprattutto, di vicini di gioco e quindi può sicuramente lavorare sia da terzo che da quarto. Poi Di Paolo Antonio è un giocatore che ha ritrovato secondo me una condizione non dico ottimale, però ottima e quindi anche lui, come dicevo prima di Ciovisles, potrebbe essere un giocatore che può partire dall'inizio, perché poi io sono sempre un allenatore che cerca di mettere in campo giocatori che da quel punto di vista possano darmi garanzie, oltre quelle tecniche ovvio. L'appuntamento con Mattino 6 termina qui, torna domattina puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!